ben trovati amici di faner sono pronti ad assistere al prima partita del gironea del mondialito si sfidano di fronte a noi il resto del mondo contro la moldova il resto del mondo deve stare attentissimo perché questi retro passaggiude possono essere fatali lo sappiamo bene cross al centro adesso per il numero otto che si coordina approvato la conclusione galicienco la pausa attento al resto del mondo in questa occasione precedente che ha dato anche animo alla moldavia che adesso si porta in avanti il cross al centro dell'area di rigore che trova il numero 20 strati che la mette dentro così facile facile disattenta alla difesa del resto del mondo 1 a 0 per la moldavia al quarto minuto da ora lancio di di allù in avanti la recupera i strati però i strati la conclusione un gol bellissimo di strati doppietta personale per lui e 2 a 0 quei parecchi sostenitori qui per il resto del mondo hanno un po abbandonato le speranze dopo il secondo gol di strati fortuna prova il lancio lungo sempre per gli strati gli strati supera rivera murillo e mette dentro il gol del 3 a 0 tripletta per lui e 3 a 0 per la moldavia la moldavia col po di tacco qui di strati che non trova nessuno lancio lungo adesso per adido adido dentro l'area di rigore adido può andare alla conclusione glicor impresa facile a nulla così potenziale gol via dito coman ma proprio quest'ultimo la conclusione la prova respingere il portiere poi il gol del 3 a 1 la mette dentro al resto del mondo sulla ribattuta di glicor proprio adido colui che qualcosa ma non c'è più tempo finisce qui 3 a 1 per la moldavia in questo primo tempo di questa prima partita del girone a del mondialito tra resto del mondo che appunto moldavia adi probabilmente calcio la direttamente in porta vediamo se è così c'è la conclusione non la mette a terra rivera e c'è il gol della moldavia 41 dopo serve carabette carabette dentro l'area di rigore intervento ai limiti della regolarità la recupera comunque carabette in un secondo momento serve gli strati va un cross al centro stacca di testa fortuna e poi murillo però spazza così il pericolo pronto i strati sul punto di battuta palla deviata e poi la conclusione e la rete della moldavia per il 5 a 1 improvviso pava precedentemente lancio lungo per i strati i strati è tutto regolare perché il pallone non esce i strati entra dentro l'area di rigore prova un servizio per idrasco ed è il 6 a 1 della moldavia non è riuscito però a servire il proprio compagno non c'è più tempo però finisce qui risultato di 6 a 1 per la moldavia contro il resto del mondo in questa prima partita del girone a del mondialido al centro sportivo longarina